Allora Pronto? 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 Sì? Pronto? Pronto? Un ottimo nome me la segno. Allora, tu paghi 10 e 50? Segna, segna. Preoccupati. Com'è il nome? Pronto? 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 ok va bene si va bene va bene a dopo grazie sei un ragazzo squillo si si però grazie non mi prendo soldi no a me lo godevi due volte si pagato e il limone dei 50 euro 2 euro niente 50 centesimo euro quello che hai o 51 euro di via giovanna la nostra amica dice che ci sia mesocera che da molto tempo mi sono trasferito dal mio padre perché ha avuto decadute no però devo stare alla sono anziani era buono gustato da un palazzo a tutti i parenti perché se tu facendo finta da domenico avevo bisogno di qualsiasi cosa forse non parla di malattia ma qualsiasi cosa tu scendi sotto e ho giudato hai bisogno di tu sale sopra e ti aiuta oppure lucrezza da mogliere si sente male la freve magari tu allunga tu frate ti aiuta hai capito hai venuto a dare un palazzo più familiare perché io non è che posso scrivere mia moglie ricca è a stare l'interno palazzo che poi come dire allora il comune poteva ingaggiarmi per seguire le persone dal punto di vista preventivo perché l'attività fisica prevene prevengono le malattie stai bene ti senta una bomba come si ricerca è in più allontani i ragazzi da esperienze negative ma il sindaco non vuole sentire vuole spendere i soldi per cavolate non per i disoccupati attenzione tu già guadagni con i clienti ma se lavorano i disoccupati pure tu non la guadagni di più hai capito io ho studiato scienze motore ma ho tanti titoli tra cui management c'è strategia per fare soldi io per esempio fare delle catene di certo tipo non ti posso dire di che cosa anzi già te l'ho detto se ti ricordi però io al comune facevo ste catene partendo dal reggio per tutta la calabria ma se non votate me il risultato di reggio è fallimentare in tutto perché guarda i soldi prioritariamente li dovevo dare i disoccupati perché così passano dall'infelicità alla felicità c'è gente che si ammazza per l'infelicità ma tu vuoi questo se il sindaco vuole questo è peggio di satana lui parla di gesù da sopra predica satana predica satana hai capito e poi se io se io per esempio oggi poto prendere 400 di cotto non ti posso 200 di guadagni di meno hai capito ciao ciao tu guadagni di meno loredana bella allora 17 e 38 11 gennaio 2024